Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale La regione va in aiuto alle famiglie che non riescono a pagare l'affitto di casa Ricci sotto assedio, dopo Baiocchi anche la Fosche da Urbino chiede spiegazioni su certe scelte fatte durante la prima fase dell'emergenza a Pesaro Come garantire l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro in vista della riapertura? La parola d'ordine è sanificare Incontro ravvicinato con un biacco a Rosciano di Fanno, ma niente paura, dalle nostre parti i serpenti non sono velenosi Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri E benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Nelle Marche prende il via da oggi la sperimentazione del plasma iperimmune da soggetti guariti dal Covid-19 I potenziali donatori potranno recarsi nei centri trasfusionali dislocati in regione Anche le Marche sperimenteranno la terapia del plasma iperimmune Il protocollo presentato e poi integrato con i correttivi richiesti dalla Commissione dell'8 maggio è stato approvato ieri con esito positivo del Comitato Etico della Regione Marche I correttivi erano stati eseguiti dal primario della Clinica di Malattie Infettive di Torrette Andrea Giacometti, coordinatori per le Marche del protocollo In tutti e 12 centri trasfusionali della regione, nei tre poli ospedalieri di Pesaro, Ancone e Fermo sarà possibile per i guariti da Covid-19 donare il plasma contenente un certo numero di anticorpi ritenuti necessari per la cura I donatori verranno catalogati in due gruppi ha detto il direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale Daniela Spadini Donatore abituale con percorso di donazione già avviato e candidato donatore non ancora ruolato il quale sarà sottoposto a una serie di accertamenti prima della donazione Entrambi le tipologie di donatori dovranno attestare di aver contratto il virus e di essere guariti con la certificazione del doppio tampone negativo Dopodiché, spiega il direttore Spadini, dovranno passare 15 giorni per poter effettuare la donazione di plasma I candidati donatori potranno rivolgersi per le donazioni alle sedi avisine, comunali e provinciali ma anche ai servizi trasfusionali regionali I limiti di età per la donazione del plasma, iperimmune e dai 18 ai 60 anni compiuti e saranno escluse le donne in stato di gravidanza Il progetto parte da oggi e la sperimentazione durerà sei mesi Il presidente della regione, Luca Ceriscioli, ha ribadito nessuno stop I fatti dimostrano la verità E' stato creato un allarme inutile per il ritardo dei protocolli generando preoccupazioni infondate per i cittadini e soprattutto approfittando della fragilità delle persone malate Annuncia un'informazione trasparente e puntuale anche su questo tema con esperti e tecnici Dopo i fondi messi a disposizione per sostenere l'economia marchigiana ora sono le famiglie che fanno difficoltà a pagare l'affitto di casa a ricevere un aiuto economico da parte della regione Stiamo lavorando ad una cospicua manovra che riguarda la ripresa economica quindi che riguarda il sostegno alle attività economiche, ai professionisti e anche ovviamente alle famiglie Consapevoli che abbiamo bisogno di agire velocemente prima che la crisi venga fuori con tutta la sua pesantezza e quindi la velocità diventa assolutamente strategica Nel contempo abbiamo anche la consapevolezza che se riusciamo a sostenere le attività economiche perché avremo bisogno di meno risorse per sostenere le famiglie che andranno in difficoltà a causa della perdita del posto di lavoro e quindi la richiesta che ho fatto con un'interrogazione che ho presentato al Consiglio regionale è quella di inserire una cospicua somma per il sostegno degli affitti per le famiglie che sono in difficoltà e che fanno fatica a pagare gli affitti stessi è una somma che andrà a supporto di quelle che già hanno i comuni perché i comuni già hanno risorse che arrivano dal Governo nazionale a sostegno delle famiglie per il pagamento dei carni di locazione è ovvio che noi in tutto questo parallelamente e quindi anche in modo complementare al lavoro che sta facendo il Governo vogliamo inserire delle risorse importanti per dare una mano alle famiglie perché tutti debbano essere nelle condizioni di essere alla pare e nessuno si senta solo o che si senta ultimo quindi l'obiettivo della mia interrogazione è che nella cospicua manovra che faremo nelle prossime settimane una parte importante sia destinata anche a questo poi ci sono tanti altri temi nei giorni scorsi abbiamo approvato anche il piano della cultura che prevede un fondo che di partenza è già 500 mila euro ma saranno molte di più le risorse con la manovra per dare una mano a tutto il sistema per esempio della cultura a partire da quei lavoratori che non hanno la cassa integrazione non hanno il supporto degli ammortizzatori sociali e che non hanno entrate e quindi anche il mondo della cultura in qualche modo in questo momento viene monitorato come quello del turismo, come quello del produttivo quindi è una manovra complessiva quello degli affitti è un pezzo che dovrà riguardare questo obiettivo e questa è la mia richiesta che faccio alla giunta regionale con l'impegno credo di tutto il Consiglio regionale delle Marche Dopo l'acceso scambio di accuse tra Ricci, sindaco di Pesaro e Baiocchi consigliere del centro-destra oggi anche l'assessore alla sanità del comune di Urbino Elisabetta Foschi chiede spiegazioni a Ricci sulle scelte fatte da lui all'inizio di questa emergenza In realtà io intendevo solo chiedere a Ricci in base a che cosa avesse assunto le decisioni che aveva assunto a fine febbraio perché invitava a mettersi le famose spillette e a dire che non c'era nessuna preoccupazione che non bisognava avere panico che faceva più danni alla crisi economica del virus in quei giorni lì l'ospedale di Pesaro era già in difficoltà e allora che non lo sapesse il sindaco di Pesaro che è la massima autorità locale in ambito sanitario mi sembra strano o non glielo avevano detto oppure c'è qualcosa che non mi torna quindi la mia domanda a Ricci è con chi si fosse confrontato in quei giorni c'è qualcosa da chiarire ma non per voler scatenare campagne di odio piuttosto che attribuire morti men che meno leggo dire che i pesaresi sono stati responsabili dei contagi urbinati cioè non è questo che si chiede si chiede di capire quali motivazioni avesse perché ripeto può darsi anche che i medici non lo avessero informato non lo so mi suona molto strano che con l'ospedale in pieno tsunami si volesse dare l'impressione che non era importante chiudersi sapendo che la chiusura era l'unica forma di prevenzione per contenere il contagio e lo stesso responsabile dell'emergenza dice se avessimo avuto due settimane come già avuto Ancona non dico come hanno avuto le altre province delle Marche ma come già avuto Ancona avremmo avuto modo di affrontare la patologia nel momento iniziale e non nella fase più acuta quale l'abbiamo vista e che ci ha determinato la chiusura sostanzialmente dell'ospedale di Pesaro l'arrivo in Urbino e che non è un'accusa dei pesaresi ci mancherebbe altro Urbino ha accolto tutto tutti come giusto che sia ma Urbino era un ospedale no covid questo vuol dire che non era attrezzato non aveva le aree contumaciali non poteva separare bene gli infetti dai non infetti il personale non aveva tutti i dispositivi di protezione è successo quello che è successo e come annunciato nei giorni scorsi il comune di Pesaro ha dato mandato all'ufficio legale di procedere con le prime tre querele nei confronti di soggetti ritenuti protagonisti di atti ingiuriosi e diffamatori il limite è stato superato da tempo ha commentato il vice sindaco Daniele Vimini sia per gli attacchi alla dignità delle persone sia per il concorso ad alimentare un clima d'odio pericoloso per la comunità l'azione di monitoraggio oltre ai social comprenderà il vaglio di interviste e interventi a mezzo stampa gli eventuali risarcimenti verranno devoluti alle famiglie in difficoltà in questi mesi di emergenza sanitaria la parola d'ordine è sanificare nel prossimo servizio vi faremo vedere vi spiegheremo quali sono alcune delle modalità per garantire l'igiene di ambienti e luoghi di lavoro locali ambienti e aree comuni oggi più che mai è necessaria la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti in cui viviamo e lavoriamo anche le superfici sono da igienizzare visto che possono essere contaminate da covid-19 ma quali sono i rimedi più idoni ed efficaci anche se non ci sono evidenze scientifiche che svolga una funzione sterilizzante nei confronti del virus in tanti stanno optando per lo zono primo è quello che fanno di solito delle agenti specializzate che arrivano e spruzzano cloro o similari anche naturali e possono essere fatte solo da quelle aziende poi ci sono altri metodi che sono o lo zono o la ionizzazione se noi utilizziamo lo zono abbiamo un apparecchio che è calcolato in funzione di quello che a me serve e io posiziono la mia macchina nell'ambiente in cui voglio sanificare e quello agisce da solo non ci devono essere persone o animali nel momento in cui viene sanificato dopodiché si areggia e la sanificazione dell'ozono è il massimo perché è superiore al cloro o all'acqua assiginata con l'ozono io posso sanificare anche ambienti che non potrei sanificare con prodotti acquiferi o aerosol che sono negozi, camere d'albergo, ambulatori oltre a questi c'è la ionizzazione che purifica l'aria fondamentale poi è sanificare i condizionatori C'è un protocollo dell'OMS che dice che perché poi c'erano delle fake news in cui dicevano che il climatizzatore non poteva essere acceso in realtà addirittura il climatizzatore riduce l'effetto del Covid quindi se non ho ricambio di aria, di aria meccanizzata quindi che mi prende aria da fuori e mi butta fuori quella interna è bene areggiare quindi avere delle porte sempre molto aperte e areggiare il più possibile I tempi per sanificare gli ambienti invece sono piuttosto rapidi ad esempio un macchinario adatto ad un locale di 40 metri quadrati agisce in 20-30 minuti i prezzi inoltre variano in base alla qualità e capacità dello strumento ma anche all'ampiezza della stanza il costo potrebbe essere ammortizzato in pochi mesi spiega Vicarelli visto che in particolare nei posti di lavoro una ditta specializzata dovrebbe intervenire ogni giorno a fine turno Oggi troviamo sul mercato tantissimi prodotti che vengono anche da mercati esteri e che utilizzano solo magari lampa di uva e che addirittura delle volte sono anche controproducenti perché creano non solo ozono ma anche azoto che va a determinare dei possibili danni su computer e quant'altro una 40 metri cubi italiana certificata potrebbe costare sui 700 euro diciamo chiaro che se io ho un piccolo ufficio da 30-40 metri quadri questo apparecchio che è un ionizzatore buonissimo perché è un marchio leader costa sui 300 euro uscire di casa e trovarsi un serpente in giardino è la disavventura capitata ad una famiglia di Rosciano a Fano l'esperto però rassicura dalle nostre parti non ci sono specie velenose questo è un biacco di 4 anni lungo un metro e 20 centimetri è un serpente non velenoso che possiamo trovare anche nelle nostre campagne e nei giardini come è successo a Rosciano di Fano dove nei giorni scorsi un esemplare era rimasto incastrato in una rete ma niente paura nonostante sia una specie di urna se disturbata dall'uomo preferisce la fuga quando viene bloccata dispensa rapidi morsi come questo ma non sono potenti il biacco poi non è l'unico serpente che possiamo trovare dalle nostre parti ce ne sono solamente 4 che sono il biacco, il saitone, la bicetta alcolare e la bicetta assellata e non sono di questi velenosa, meno per l'uomo, non sono animali pericolosi e sono tutti ai mali protetti quindi insomma non sono da uccidere, non sono da maneggiare, non sono da lasciare stare perché sono importanti per l'ambiente, sono importanti per l'ecosistema in cui si trovano ogni serpente ha il suo carattere ci spiega Cristian, il biacco è il più mordace il morso di un biacco è paragonabile un po' al graffio di un gatto quindi insomma è un po' relativo poi c'è il saitone che è un po' meno mordace però anche lui tende a mordere però comunque siamo sempre nel graffio di un gatto, poi abbiamo le natrici, quella da tassellata e quella del collare che invece non mordono quasi mai, proprio se mordono sono veramente costrette e sono veramente al limite perché quello che fanno hanno come strategia difesa quello di fingersi morte, si chiama tanatosi quindi mettono in scena una sorta di teatrino in cui fanno finta di essere morte si cospargono di odori, di cose un po' nauseabonde e questo permette all'animale di spaventare, insomma di mandare via il predatore sempre di recente c'è stato un avvistamento a Pesaro? si c'è stato un avvistamento al parco Miralfiore inizialmente si pensava fosse un Boaco Strictor che è un serpente sudamericano e ha delle dimensioni importanti, può raggiungere anche 3 a volte anche 4 metri a seconda degli individui però in realtà era un comune biacco, era un comune serpente nero quelli che si trovano comunemente e sono molto diverse, il biacco ha una forma molto più longilinea, ha una dimensione più piccola rispetto a un Boaco Strictor che invece è più grande, il Boaco Strictor poi è esotico mentre il biacco è uno strano, è molto comune chi si può contattare in questi casi? allora se dovesse capitare di trovare un serpente in un giardino o in casa e magari se volesse portare via si possa contattare o casa Archilei oppure Largonauta dopo magari gira un numero a me e poi passo io a controllare insomma come la situazione e a recuperare l'animale e comunque è sempre meglio stare alla larga il Consiglio regionale delle Marche ha approvato una risoluzione per il rimborso degli abbonamenti per il trasporto scolastico la regione si attiverà nei confronti della società concessionaria di trasporto pubblico locale affinché venga rimborsata alle famiglie la quota prevista per l'abbonamento per il periodo in cui le scuole sono state chiuse al vaglio anche l'ipotesi di uno sconto di pari importo per l'abbonamento del prossimo anno scolastico ed ora ci spostiamo ad Urbino dove a causa dei lavori di sfalcio dell'erba il prossimo 15 maggio dalle ore 7 alle 18 verrà istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nelle vie Don Minzoni, via Ghegarin, nel lato sinistro dell'intersezione con viale Comandino e nel parcheggio Limitrofo Chiudiamo ricordandovi che lunedì prossimo dopo il telegiornale quindi alle ore 21 in diretta su Fano TV ci sarà il secondo appuntamento dedicato all'emergenza Covid-19 in studio Massimo Seri, il sindaco di Fano con lui parleremo della fase 2 e soprattutto di tutti quegli aspetti che non abbiamo trattato nella scorsa puntata e quindi parleremo anche della tenuta socio-economica della nostra città ma di tante cose e soprattutto daremo spazio alle vostre richieste, alle vostre telefonate Grazie per averci seguito, l'informazione su Fano TV torna domani mattina in diretta alle 7.45 con la rassegna stampa Arrivederci 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 Grazie a tutti.